Federico Simonti è uno dei nuovi giocatori della Pistoiese targata Frustalupi. L'esterno sinistro classe 2000 è in prestito dalla Fiorentina dove è cresciuto e ha indossato la fascia di capitano nella formazione Primavera. Benvenuto a Pistoia. Con quale aspettative arrivi qua? Arrivo con le aspettative di fare bene e di dare contributo alla squadra per fare bene e di fare un bel campionato. Arrivi con alle spalle un grande percorso nel settore giovanile della Fiorentina. La fascia di capitano, la vittoria della Coppa Italia. Quindi arrivi ben carico. Cosa pensi di poter dimostrare qua in Serie C? Penso di poter giocare e di essere costante. Questo è il mio obiettivo alla fine. Lo spero tanto per me, per la mia famiglia, per i miei amici. Spero di fare la famosa scalata che fanno tutti i giocatori. Che tipo di difensore sei? Sei un esterno-sinistro, però puoi anche giocare in altri ruoli. Come ti sei trovato già adesso con l'allenatore Frustalupi? Avete già parlato di qualche possibile ruolo in campo? Sì, abbiamo parlato insieme. Siamo stati tanti a parlare. Abbiamo parlato del ruolo che avrei dovuto fare con la sua squadra. È un ruolo che mi piace molto sia perché c'è fase difensiva ma soprattutto per la fase offensiva. Che magari da terzino ne facevo meno. Che impressioni hai avuto? Il primo impatto con lo spogliatoio. Non ce ne conoscevi già qualche ragazzo oppure no? Sì, conoscevo un ex giocatore, Gabriele Ferrarini, che mi ha parlato molto bene della società, del gruppo e tutto. Conoscevo già Ceretelli, il centrocampista. Ma comunque quando sono arrivato qui li ho trovati tutti molto accoglienti. Da Fabrizio, la Giussi. Mi hanno aiutato fin da subito. Anche i compagni mi hanno fatto sentire a casa. Questa scelta da cosa è scaturita? Un motivo su tutti per cui scegliere Pistoia? Ma è stata una scelta presa da me, dalla società e dal mio procuratore. È stata una scelta comune perché eravamo contenti di questa società. Una società importante che ha anche militato in Serie A. E comunque quest'anno è il centenario e quindi vogliamo tutti fare bene e dimostrare che possiamo stare là in alto. Mi aspetto un campionato molto fisico, molto difficile. Anche perché ci sono giocatori importanti come ne abbiamo uno in squadra noi, Francesco Valiani, che ha giocato in Serie A. Ma come ho detto prima ho avuto anche amici che hanno già giocato in Serie C e quindi mi sono fatto un po' consigliare come comportarmi. Un'ottima corsa, molto rapida, buona tecnica. Ti riconosci in questa descrizione? Abbastanza, dai. Non voglio sembrare troppo presuntoso. Quindi faccio parlare agli altri. Io lo dimostro sul campo. Grazie. Grazie. Grazie.